ciao amici oggi sono io oggi vediamo l'altra serie di della guerra dei castelli pensate perché l'ho chiamata così perché dopo sarà una guerra così dei castelli e iniziamo a fare video mettete like iscrivetevi e guardate ancora una cosa buona visione si vado devo andare adesso nel castello ma una cosa bella che ho avuto i soldi l'altro giorno devo avere non è oggi ciao 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 ma che cosa ci stanno poi guardare ci stanno solo le cose dorate buone sarà un posto per vestirmi non lo so no ma vabbè me ne vado fuori non toco questo buco nero perché ho paura adesso mi vesto che cosa di fortnite no non mi serve wow io sono diventato piccolo adesso la porta una pizza sì sì una pizza no questo non mi serve perché sono troppo piccola per un lavoro così gigante che cosa sono diventato zesson ma dai che diventerò mi serve un costo meno normale non un panino di fortnite poi non mi ricordo che era poi zesson questo armadio era un manacico armadio che sono tanto dei giochi adesso sono un normale costume è bello vado perché ce lo lascio aspettate aspettate non lo voglio sapere ecco ciao posso prendere un po' di soldi perché ho visto che là sono arrivate delle cose che posso comprare le giostre si puoi prendere non tutto ti ho detto ma vabbè sei il mio cane puoi darmi al padrone tutto perché ti ho dato tante cose vabbè mi hai dato solo da mangiare adesso ce l'ho anche da mangiare vabbè ciao un po' di blocchi di esmeraluti esmeraluti ho preso ecco la banca importante che non hanno visto no non hanno visto perché loro amano le cose preciose sono come dei bulli che a scuola ti rubano i soldi guarda nella mia casa ciao gattino mio salgo ma aspetta ma aspetta ma vabbè sono così già ricco perché mi servono quelli soldi di quello wow com'è belle queste giostre parco di giochi è tutto gratis le giostre e negozio il cibo gratis quasi è tutto gratis di jacob pro jacob pro è in questo gioco è un mio amico circolo d'acqua mmm bello gioco vabbè perché devo mettere qua ma se è gratis perché dovevo prendere i soldi dal cane mio sì non lo so io avevo tanti soldi sì ho dato al cane un po' di soldi lui non lo so che cosa ha fatto ha comprato forse delle guardie dei schiavi che scavano nelle caverne e ti prendono quelle cose perché è una buona idea sì perché loro ti scavano poi tu così rampolino vabbè questo vabbè questo è un bel gioco ma è lento andare wow che è oh ciao guardia pig non voglio fare adesso queste giostre voglio andare già a mangiare mangiare wow oh ciao oh ciao che cosa vuoi da mangiare io voglio forse fammi guardare si guarda guarda torta panino con tutto mi dicete che cosa è buona mi ero addormentato per sbaglio che cosa volete dirmi che cosa è più buona a voi potete comprare come dire aspettante aspettiamo questo cosa qua il biscotto fortunato che aspetta ti riesco a aiutare perché adesso perché puoi comprare puoi comprare non lo so il biscotto fortunato che tante persone l'hanno comprando e hanno vinto non lo so sul gioco hanno vinto dei personaggi che non mi ricordo taro leon mortis anche tu giochi con questo gioco si a bravo stars e più bel gioco anche fortnite minecraft tutto è bello vabbè mi puoi dare già il biscotto fortunato e vuoi qualcosa ancora ci stanno anche le bibite se non vedi ah le bibite con la fanta e sprite a questi l'altri no l'altri sono uguali perché se finissi puoi prendere dall'altri perché il treno il coso di coso che ti viene a pre che ci dà il cibo le bibite non viene così in fretta hai capito sì ho capito ma possiamo non per poi io ho messo la mano qua scusate che ho messo il cane che cosa eh sì ho la largheia il cane lo capisci perché io non ho l'ar... allergia lo sai che cosa noi siamo due due uguali fratelli perché noi eravamo tutti in uno una cosa è volato su noi e poi boom boom siamo diventati due e tutti le persone hanno le loro cose io ho scherzato non ho l'allarcia dai in fretta sei che non posso aspettare un po' di tempo sì no perché tra poco si chiude vabbè anche il parco no il parco si chiude dopo il negocio si chiude perché va a mangiare ah vabbè non lo so prendo queste cose quanto costa tutto aspetta devo andare a controllare aspetta devo andare a controllare il cano e non fa niente il cane aspetta sì quanto costa cosa ehm 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 vedi questa cesta sì metti due blocchi di cristallo vabbè quanto tanto non è così tanto tutti ce l'hanno soldi normali amici se volete vedere l'altro video dovete dirmi e così li faccio non li faccio sì sì con ora Yechor e Steven ciao ciao